Ultimo impegno del 2023 per la Delfest Avellino. Al Palà del Mauro, la formazione di Alessandro Crotti affronta l'esame Gemma-Montecatini. Gara ostica come tutte del resto per una squadra che è in piena crisi di risultati, gioco e dove tutti sono attenzionati. Le critiche delle ultime settimane hanno colpito tutti, squadra, giocatori, diligenza ed allenatore. È chiaro che negli ultimi risultati hanno creato un grosso malumore, anche il tecnico non è sereno. La Delfest presumibilmente tornerà sul mercato. L'idea è di prendere un tiratore che allarghi il campo e soprattutto faccia canestro per poi inserire in organico una guardia che possa rendere la panchina più competitiva. La conferma arriva nelle parole dello stesso tecnico. Trovare qualcuno che ci apra bene il campo con qualità balistiche importanti, anche perché adesso siamo un po' troppo focalizzati sul tiro da tre punti di Vazla che viene anzi regolarmente attenzionato dalle difese e quindi lì siamo proprio un po' asfittici e dobbiamo troppo spesso andare a cercare sempre comunque la palla dentro e col passare della partita poi la tagliola si chiude attorno ai lunghi e andiamo in difficoltà. Questo pomeriggio, appunto alle 18 sul parchè del Pala del Mauro, si affronteranno due formazioni, la cui storia recente è diametralmente opposta. Se a settembre qualcuno avesse pronosticato una classifica del genere a questo punto della stagione, sia per l'una che per l'altra compagine, probabilmente molti addetti allevori gli avrebbero dato quel spazio. Il giudizio del campo tuttavia è insindagabile, ma se ormai è innegabile che qualche scelta in sede di costruzione della squadra della dirigenza erpina deve aver pur sbagliata, è altrettanto innegabile che giocatori come Vazel, Bortolini, Nicolic e il nuovo arrivato Chinellato in Serie B possano fare la differenza in qualsiasi momento. Dall'altra parte ci sarà una formazione ostica, come la gema Montecatini. Grazie a tutti.